Proseguono gli incontri tra comune e sindacati per l'avvertenza in corso che riguarda le mense delle scuole cittadine e in particolare sul divieto imposto dal comune di accedere all'interno dei cortili delle scuole per consegnare i pasti per gli alunni. Incontri pure in prefettura che si sono susseguiti in questi mesi per trovare una soluzione. I lavoratori continuano a chiedere di poter entrare nei cortili con i furgoni per evitare agli operatori della ditta vivenda, che si occupa delle mense cittadine, di dover consegnare contenitori di oltre 35 kg percorrendo a volte anche 200 metri a piedi in condizioni atmosferiche che non sono sempre buone. Una scelta che penalizza i lavoratori ma che è stata assunta per ragioni di sicurezza dopo l'incidente all'asilo primo maggio costato la vita al piccolo Tommaso D'Agostino. Il comune con i sindacati ha ribadito la CGL, si era impegnata ad occuparsi dei piani di sicurezza delle scuole, ma per il sindacato non si è mosso nulla. Il comune dice questo invece. Da parte del comune c'è la massima disponibilità e abbiamo cercato di dimostrarlo, lo abbiamo dimostrato, facendo parecchi incontri perché la questione nasce, la problematica nasce dall'apertura delle scuole da settembre in poi, che non riguarda solamente la vivenda ma riguarda anche gli stalli per i diversamente abili e i pulmini che accompagnano i bambini alla scuola. Questo perché da settembre in poi le dirigenze scolastiche hanno vietato l'accesso alla scuola e abbiamo cercato di trovare un accordo tra i responsabili della sicurezza e protezione da parte della scuola e i responsabili della sicurezza e protezione da parte del comune per trovare una via d'incontro per risolvere i problemi. Abbiamo scongiurato, grazie alla sensibilità dimostrata dai sindacati, abbiamo scongiurato lo sciopero delle maestranze del 4 dicembre. Principalmente lavorare sui piani di sicurezza perché alcune scuole sono state molto disponibili e alcuni responsabili della sicurezza ci hanno mandato nei giorni scorsi la risoluzione del problema. Dobbiamo cercare con le nostre maestranze, con gli operati del comune oppure con delle ditte esterne di fare questa segnaletta orizzontale e verticale per permettere l'accesso dei mezzi sia della vivenda ma soprattutto di diversamente abili e anche dei pulmini dei bambini per evitare terribili incidenti.